Allora dal mio punto di vista credo che sia un punto condiviso con tutti i genitori, ne sono certa, è che questa è un'opportunità importantissima e fondamentale per i bambini avere la possibilità di imparare. Quindi per chi è purtroppo limitato in questa cosa il discorso della didattica a distanza è veramente molto importante, non dico proprio per la socializzazione perché ovviamente non c'è persona fisica dall'altra parte, c'è solo un'immagine, però è importante perché consente al ragazzo o alla ragazza di avere esattamente gli stessi mezzi che hanno gli altri, quindi di avere pari opportunità, questa è la cosa più importante in assoluto secondo me e quindi avere poi successivamente quando avrà risolto il problema gli stessi strumenti per essere felice, la felicità diciamo, è una possibilità di essere preparato e felice come gli altri. Grazie.